Situazione di martedì 5 aprile sulla provincia di Palermo. Cielo velato o poco nuvoloso. Venti di moderata intensità. Temperature comprese tra i 13 e i 19 gradi. A partire dalle primissime ore di mercoledì possibile qualche pioggia, ma per il resto della giornata il tempo sarà soleggiato. Venti di moderata intensità. Temperature in calo.